Il derby di Calabria è in nero-arancio, termine 85-67, la sfida tra palacanestro Viola e Bim Bum Rende, troppo accecata la formazione ospite per approvare ed impensierire il rullo compressore Regino. Reggio ha giocato una gara ben congegnata con qualche sbaglatura, girando tutti gli effettivi del roster, ritrovando il talento Regino Tommaso Russo, dando spazio al giovane Mazza, classe 2007 e a Contè. I problemi del Rende si vedono già dal quintetto iniziale, senza Tomic, Ginefra e Jirovic nei primi cinque. Coach Carbone ha dovuto l'eramente fare i salti mortali per rendere la gara un po' equilibrata per il sempre crescente pubblico Regino. Federico Cigarini, invece, dopo un primo quarto in vantaggio in doppia con Maveric e Tirtisnik, triple a Cocoa anche da distanza siderale, in evidenza, si permette il lusso di preservare l'asso ucraino, autore comunque di una prova pregevole. Dopo un antisportivo e un tecnico, Rende perde Tomic ad inizio terzo quarto. Belle giocate per Guzzo, anche lui tripla pazzesca, ma non basta. Viola sempre in controllo e in doppia cifra. Molto bene Ilario Simonetti, sostenuto da un buon numero di giovani tifosi arrivati dalla scuola basket di Eutimo Locri. Sec regala due schiacciate da Cineteca, doppie anche per Aguzzoli, Maavic, Maximovic e il già citato Ilieti Tirtisnik. Insomma, una viola davvero in forma fa suo il derby calabrese.